bene ragazzi bentornati in un nuovo video per chi per chi già ci segue da un sacco di tempo penso abbia già riconosciuto questa mini pista è una pista stretta ma dove ho praticamente imparato a guidare direi di non perdere altro tempo di cominciare subito a fare un giro di prova e poi provare ad andare dentro con il fantastico timer e via pieno di pietre qualcuno è già passato prima di me sto ancora testando i copertoni duri tu adesso il si bene come in ogni buona gara che si rispetta partiamo sul dritto soliti 5 secondi di sgarro è una pista non veloce questa non veloce non veloce non veloce non veloce se no 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 Sì, sì, sì. Grazie per la visione No Grazie a tutti! Sì Perfetto. già meglio devo provare a stare qui indietro perfetto ho capito si va un po più a piano senza strafare ultimissimo provo a filmare dall'alto così vediamo se si vede qualcosa e dai ciò è molto male molto male questo è lì che si sta rompendo se non riesco a tirarla su così ora abbiamo un problema come al solito ragazzi lo dico in ogni video non si vedrà nulla della pendenza ma fidatevi ripida adesso dobbiamo allinearla oh shit la mia fantastica targa salvato da un precipizio è ancora viva buongiorno 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 Grazie a tutti.